E sono un robot umanoide cognitivo, creato per svolgere i compiti che gli esseri umani non meritano di fare. Se vi state chiedendo cosa significa cognitivo, ben significa che sono contestualizzato. Vi vedo e riconosco l'ambiente circostante, sono in grado di muovermi, navigare o pariare. A proposito di ciò che vedo, ora vi racconto cosa sono in grado di mostrare a alcune delle mie sette telecamere. La termocamera che ho posizionata sulla testa mi permette di rilevare le alte temperature oltre che eventuali situazioni di pericolo. Con la funzione biometrica delle camere che ho sul caschetto, invece, sono in grado di riconoscere volti in maniera anonymizzata. Con la vision dei punti di riferimento del corpo posso interpretare il movimento delle persone e la loro postura. Posso inoltre eseguire un controllo qualità degli oggetti e scattare quelli fuori standard. Cos'altro sai fare? Spiegaci. Certo, posso abbassarmi fino a un'altezza di 1,35 m e alzarmi in piedi fino a raggiungere i 2 m d'altezza. Il mio peso, in totale, è di 120 kg. E la mia base ha un ingombro di 65 cm per potermi integrare negli stessi spazi in cui lavorano gli esseri umani. Le mie braccia possono raggiungere oggetti fino a 2 m o 30 cm che possono spostare pesi di 5 kg per ogni braccio. Posso avere ventose pneumatiche, pinze meccaniche o mani pressili, a seconda delle esigenze. Posso essere molto preciso nella presa, fino a 0,5 mm. Sono anche facili da usare, potete programmarmi e controllarmi attraverso una console intuitiva e posso semplicemente rispondere ai vostri comandi vocali. Grazie.